Mister, una gara che ha visto il Teramo partecipe soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo tempo qualche difficoltà di troppo, Regina più concreto? Sono d'accordissimo, è stato un Teramo che ha voluto giocare a darmi pari dal punto di vista tecnico, abbiamo preso un gol a freddo e questo è stato uno svantaggio, però la squadra ha avuto una grandissima reazione, secondo me ha fatto mezz'ora veramente molto importante, con una squadra forte, fortissima. Il gol alla fine del primo tempo è stato quello che ha un po' deciso la gara, perché questo gol all'ultimo minuto del primo tempo c'è un po' ridimensionato, però la squadra io gli voglio fare i complimenti perché ha avuto il coraggio di giocarsela, abbiamo trovato di fronte una squadra che in questo momento è super su tutti i lati e su tutta l'area del terreno di gioco, però penso che noi abbiamo dato dimostrazione che possiamo dire la nostra sul piano del gioco, dobbiamo capire che non siamo partiti per vincere il campionato come qualcuno pensa, siamo partiti per cercare di creare uno zoccolo duro, una fondamenta importante, un calcio continuativo in una città che in questo momento stava balbettando, cerchiamo di toglierci qualche balbettio di troppo e di essere continui nel nostro gioco. Il terzo è nato da una palla inattiva, obiettivamente attraversa gol, noi in qualche episodio attraversano un gol, quindi ci sono anche queste cose da ponderare, fermo restando che la Regina sia dimostrata anche oggi una squadra molto forte, però sul piano del gioco credo che il Teramo per un tempo abbia retto il gioco. C'è anche stata la situazione della Coppa Italia che ci ha rotto le scatole, non tanto perché abbiamo snobbato la Coppa Italia, non abbiamo snobbato nulla, solo che fare ancora una trasferta infrasettimanale e mettere qualche giocatore acciaccato in campo obiettivamente ci ha dato fastidio. Delle volte ci si sorprende di questo, quando a Teramo invece questo è una continuità, la curva ha sempre dato un segnale importantissimo ed è anche per questo che noi siamo dispiaciuti per non regalare una giornata importantissima. Vendiamo di regalarne altrettanto importanti più avanti cercando di mantenere sempre salda quella che è il nostro equilibrio. Al netto delle avversarie la vittoria comunque manca da un mese, quindi domenica prossima sarà obbligatorio cercare di tornare a vincere? Sì, purtroppo nonostante le prestazioni a Bari e a quella a Teramo in casa sono arrivati tanti punti, in questo momento dobbiamo andare alla ricerca di trovare una vittoria, cercheremo già subito da domenica prossima. Questa squadra è diventata forte secondo me, si è capito che l'obiettivo comune è la regina, ognuno parla di gruppo e non in modo individuale, chi entra dà il suo contributo e mette a disposizione della squadra le sue qualità che sono tante. E' facile per me gestire perché ho un gruppo di ragazzi intelligenti. Mi servono i forti, grandi qualità e il Teramo? Il Teramo è una squadra di qualità, noi abbiamo fatto 10 minuti e abbiamo sofferto il Teramo, è venuto fuori, abbiamo mollato un pochettino la presa dopo il vantaggio e le qualità del Teramo sono venute fuori. Siamo stati bravi a soffrire, poi è venuta fuori di nuovo la qualità nostra, la consapevolezza che in questo momento è tanta, la fiducia è tanta. La squadra ha legittimato la vittoria, è una prestazione di grande livello perché venire a vincere qua 3-0 non è facile. Posso chiedere cosa ha in tasca? L'ho vista baciare qualcosina quando è entrato, però è un tipo credente. No, non lo fate dire perché se no mi emoziono. L'ho fatta la fiducia di mia madre. Ah, ok, bello. Grazie. Grazie a tutti.